Nel padiglione Tinozzi dell'ospedale Bellaria resterà esposta fino a venerdì 9 di marzo una mostra dedicata alla beata Maria Rosa Pellesi, la religiosa che trascorse 24 anni della sua vita malata di tubercolosi all'interno dello stesso Bellaria. Nonostante le continue polmoniti e febbri la avvicinassero spesso alla morte e i periodi di isolamento mettessero alla prova la sua fede, ogni volta tornava a vivere per curarsi degli altri ospiti del sanatorio e dedicarsi al loro conforto spirituale. 12 porte ha dedicato alla figura della beata lo speciale profumo di rosa che è disponibile sul nostro sito internet.